In pista per una prova di riqualifica alle corse, il quattro anni rosso del Rio della scuderia B&B, allenato da Paolo Milabello e guidato da Marino Lovera, tempo per la qualifica a 2.056 per un raguaglio di 1.185 o migliore al chilometro, i giornali dell'autostart in quattro anni rosso del Rio da Barenne e USA del Rio, partita la riqualifica, tempo a disposizione di 2.056, il raguaglio richiesto da norme regolamentarie di 1.185, rosso del Rio completa il lancio in 15.3 alla media di 16.5, completata la piegata per rosso del Rio e il quarto iniziale in 31.9 alla media di 1.198, deve sveltirsi perché deve fare 18.5 o migliore, rosso del Rio passa il paletto dei 600 in 47.6, 19.3 la media, seconda e penultima piegata, rosso del Rio contro il tempo, 2.056 il tempo massimo a disposizione, a metà corsa ci arriva in 1.035, 19.4 la media, 31.6 il secondo parziale, deve sveltirsi e ora il passaggio dopo un giro in 1.189, al momento dunque non sarebbe ancora qualificato, anzi riqualificato, si va a completare i 1.200 in 1.335, 30 netti la terza frazione, completamento della curva e l'ingresso per rosso del Rio, passaggio ai 1.400 in 1.492, gli ultimi 150 metri, gli ultimi 100 metri per rosso del Rio, tempo massimo 2.056, rosso del Rio completa il miglio in 2.048 alla media di 1.18 e dunque si riqualifica, doveva fare 18.5 al massimo.